Buongiorno, io sono Marco Tocchiano e vi do il benvenuto a questa prima lezione del corso di sistemi informativi aziendali. Prima di iniziare a parlare di cos'è un sistema informativo vi ricordo che queste lezioni video registrate saranno disponibili online su una playlist YouTube, inoltre avrete a disposizione tutto il materiale nel sito che vedete sul lucido mostrato, potete anche utilizzare il QR code per accedere alla pagina del corso che riporta oltre al materiale delle lezioni esercizi e informazioni varie. A questo punto cerchiamo di capire che cos'è un sistema informativo. Ci sono tante definizioni, una relativamente compatta e semplice è quella che vediamo qui, ovvero un sistema informativo è un insieme di componenti che lavorano assieme al fine di raccogliere, elaborare, immagazzinare e disseminare che cosa? Informazioni. Al fine di supportare le persone, gli utenti nel prendere delle decisioni, nel coordinarsi, nello svolgere le varie attività, nel effettuare un controllo di quello che sta avvenendo, di analizzare lo stato attuale e di visualizzare e disseminare le informazioni nel contesto di una organizzazione. Quindi qui ci sono diversi aspetti chiave. Innanzitutto il fatto che il sistema informativo non è un semplice programma, un sistema informativo non è un'app, ma è l'app più tutti gli altri programmi che stanno attorno e svolge molte attività. Il punto chiave è che tratta informazioni e il trattare le informazioni serve per supportare tutte quelle attività che vediamo elencate qui, quindi prendere decisioni, coordinarsi, controllare, analizzare, visualizzare all'interno di quella che è un'organizzazione. Se consideriamo il sistema informativo, le tre attività principali sono l'input di informazioni, quindi abbiamo un insieme di dati che entrano all'interno del nostro sistema informativo che possono essere raccolti in vario modo, quindi da input testuale, scrivo su una tastiera e il mio sistema lo legge, a raccolti di informazioni tramite dei sensori. Il punto successivo riguarda quello che è l'elaborazione, che cosa vengono fatti, cosa viene fatto di questi dati? I dati vengono aggregati, trasformati al fine di o essere immagazzinati oppure alla fine essere prodotti in output, quindi essere disseminati agli utenti del sistema, principalmente alle persone che lavorano all'interno di quella che è l'organizzazione, ma eventualmente anche ad altre persone all'esterno oppure ad altri sistemi informativi. L'output che viene generato dal sistema informativo produce in maniera indiretta un feedback. Perché? Perché sostanzialmente le persone prenderanno le decisioni o agiranno in conseguenza dell'output e le azioni che faranno produrranno ragionevolmente altri input per il sistema informativo. Quindi il sistema informativo può in qualche modo aiutare a controllare e mantenere sotto controllo quello che avviene all'interno di un sistema, di un'organizzazione più ampia. Ovviamente oltre all'organizzazione, quindi le persone, le strutture, i processi che sono in atto, il sistema informativo interagisce anche con quello che è l'ambiente esterno all'organizzazione, interagisce o è influenzato, almeno nella sua decisione. Allora, innanzitutto abbiamo clienti e fornitori. È ovvio che il sistema informativo dovrà raccogliere gli ordini dei clienti, fare ordini verso i fornitori in modo da garantire un funzionamento del sistema. inoltre il sistema informativo dovrà in qualche modo andare a supportare quelli che sono gli azionisti della nostra organizzazione, che non necessariamente fanno parte dell'organizzazione stessa, ma sostanzialmente hanno degli interessi nei confronti dell'organizzazione e quindi devono produrre le informazioni e dare una risposta agli azionisti. Ci sono poi le agenzie di regolamentazione, lo Stato prima di tutto, ma abbiamo anche le regioni, gli enti di standardizzazione che definiscono una serie di regole a cui devono sottostare le organizzazioni e di conseguenza anche i sistemi informativi che supportano le organizzazioni nello svolgere le loro attività. E infine abbiamo i competitori, cioè i nostri concorrenti che dobbiamo tenere presente, quindi dobbiamo tenere traccia delle informazioni di che cosa fanno i nostri concorrenti in modo che siamo in grado di confrontarci con loro. Attenzione, questo discorso vale per le organizzazioni in generale, non semplicemente per quelle commerciali o con scopo di profitto, se pensiamo a un'università che ad esempio non è un'organizzazione che ha come scopo il profitto, comunque ha dei competitori o concorrenti, se il termine magari è improprio vuol dire altre organizzazioni che fanno lo stesso lavoro, quindi è utile andarsi a confrontare e capire ad esempio se ci sono delle buone pratiche che io posso importare o se qualcuno va meglio e quindi ha qualche strategia che funziona meglio e che quindi posso adottare. In tutto questo l'elemento fondamentale è l'informazione, come anche suggerisce il termine sistema informativo. Ebbene andare a differenziare quello che è il significato di due parole che utilizziamo molto spesso, ovvero dati e informazioni. Normalmente in senso proprio per dato si intende un flusso di fatti semplici che rappresentano eventi che avvengono all'interno dell'organizzazione, un ordine che arriva, oppure misure di quello che avviene nel mondo fisico, le temperature. I dati sono considerati tali prima che venga fatta un'elaborazione e i dati in quanto tali normalmente non hanno un grande significato per le persone normalmente sono semplici numeri. Io devo andare a prendere questi numeri, strutturarli, organizzarli in modo che abbiano un significato per le persone che li usano e per il sistema informativo, in modo da aiutare nel prendere decisioni e nel fare le operazioni. Ecco, il momento in cui il dato assume un significato, ecco il dato diventa quello che noi chiamiamo un'informazione. L'informazione è fondamentale perché ci permette di andare a confrontare due mondi abbastanza diversi, che possiamo chiamare la dimensione materiale e quella immateriale. A volte si parla di reale e virtuale, ma in realtà anche la dimensione immateriale è reale, influenza la nostra vita quotidiana, quindi più reale di così, quindi è meglio utilizzare le parole materiale e immateriale. Queste due dimensioni sono molto diverse e i sistemi informativi sostanzialmente ci permettono di entrare nella dimensione immateriale, sistemi informativi che sono l'oggetto di questo corso, ma in generale le tecnologie dell'informazione che sono alla base dei sistemi informativi moderni ci permettono di andare a mettere assieme questi due mondi. Quindi è bene fare un breve riepilogo di quelle che sono le caratteristiche essenziali che permettono di distinguere questi due mondi, queste due dimensioni. Allora, innanzitutto quando parliamo di prodotti all'interno del mondo materiale, normalmente facciamo riferimento a qualcosa che costa molto produrre. Ho bisogno di materie prime, ho bisogno di lavoro per andare a produrre degli oggetti. Questo è meno vero all'interno di quello che è il mondo immateriale, dove sostanzialmente ho a che fare con dei programmi e questi programmi, una volta sviluppati, sono a vostra disposizione senza necessità di andare a utilizzare le materie prime per costruirli. Ovviamente ho bisogno del lavoro, delle persone, perché le persone sono un elemento fondamentale all'interno dell'area dell'informazione, ma non ho bisogno di materie prime e quindi il costo sostanzialmente dei beni immateriali è decisamente più basso di quelli immateriali. In termini di riproduzione, quando io ho un oggetto e ne voglio fare un altro uguale, ecco, in termini materiali di nuovo dei costi, di nuovo di materia prima, di lavoro, in termini immateriali la riproduzione di un oggetto, di un bene, è sostanzialmente gratuito o comunque trascurabile. Ho bisogno semplicemente di copiare un'area di memoria in un'altra, copiare un dato su una penna USB. Questo ovviamente ha un costo trascurabile, probabilmente un po' di elettricità, ma quindi nella pratica non ce ne accorgiamo neanche. Un altro aspetto interessante è quello che riguarda l'immagazzinamento. L'immagazzinamento dei beni fisici richiede degli spazi, dei packaging, eventualmente delle strutture apposite a contenere gli oggetti. Immaginate dei beni che sono dei surgelati, io ho bisogno di avere delle celle frigorifere e quindi ho costi aggiuntivi. In termini del mondo o della dimensione immateriale, i costi di immagazzinamento sono praticamente nulli o trascurabili. Se pensate a quello che è il costo della memoria, ecco queste sono le statistiche dei prezzi ad oggi, 2020, il costo della memoria RAM è di circa 2 euro, quasi 3 euro al gigabyte. Gli hard disk costano 0,019 dollari al gigabyte e i dischi allo stato solido, che ormai sono molto diffusi, costano un po' di più, comunque costano 0,080 dollari al gigabyte. Quindi capite che il costo della memoria è decisamente basso, quasi trascurabile, trascurabile sicuramente rispetto al costo di materie prime o lavoro che può essere necessario per andare a fare operazioni di produzione o di riproduzione degli oggetti. Un altro aspetto fondamentale è che i beni materiali devono essere trasferiti, quindi semplicemente non devo costruirne uno nuovo, ma devo anche farlo avere alla persona che lo utilizzerà. Per cui sia in termini di costi che di tempi c'è una differenza fondamentale tra quella che è la dimensione materiale e quella immateriale. Nella dimensione materiale io ho costi dovuti al trasferimento fisico degli oggetti e tempi che possono anche essere potenzialmente lunghi. Oggi noi siamo abituati tramite i corrieri e i siti di commercio elettronico ad avere le cose in un attimo a casa nostra, però dietro ci sono tutta una serie di costi di trasferimento che non sono trascurabili. Se pensiamo alla dimensione immateriale, ecco, nel momento in cui io voglio andare a installare un'app sul mio telefono, ecco, il costo per avere questa operazione, per poter fare l'installazione e i tempi necessari per farla sono praticamente trascurabili. Sì, abbiamo bisogno di qualche secondo di trasferimento, però immaginate quei secondi rispetto al tempo necessario per fare un trasferimento di un oggetto fisico, magari che sta dall'altra parte del mondo. In realtà il trasferimento delle informazioni nel mondo immateriale non è infinito, ma avrà un limite che è dato sostanzialmente dalla velocità di trasferimento dei segnali elettrici all'interno dei conduttori o della luce all'interno delle fibre ottiche. Un altro aspetto fondamentale che distingue il mondo materiale da quello immateriale è che è la durata dei beni. La durata dei beni materiali è limitata, quindi si usurano, la struttura materiale si usura nel tempo e quindi hanno un tempo limitato, mentre invece le informazioni, che sono l'elemento fondamentale nel mondo immateriale, hanno una durata che è potenzialmente eterna. Ovviamente posso avere dei limiti, ma i limiti di immagazzinamento non sono dovuti all'informazione in sé, ma al supporto fisico, che come abbiamo detto dopo un po' si degrada. Altro aspetto importante che io voglio enfatizzare è l'integrazione. Normalmente gli oggetti che vado a produrre nel mondo materiale sono scollegati tra di loro, quindi ho due libri e i due libri non hanno niente a che fare l'uno con l'altro, sono separati, non interagiscono, mentre invece all'interno della dimensione immateriale i beni, gli elementi, sono fortemente interconnessi. Negli ultimi tempi si parla molto di quello che è l'Internet of Things, che è quello che rappresenta una rete di oggetti fisici che hanno della tecnologia al loro interno, si dice embedded, e che permette a loro di andare a comunicare e di andare a rilevare quello che è il proprio stato interno e, eventualmente, lo stato del mondo che li circonda. Quindi gli oggetti non sono più oggetti puramente materiali, ma hanno al loro interno un qualcosa che permette di andare a gestire l'interazione tra questi oggetti, quindi ho una rete, ho un Internet che permette di collegare oggetti fisici che prima erano semplici oggetti separati l'uno dall'altro. Infine vorrei enfatizzare alcuni aspetti più economici che caratterizzano queste due dimensioni. In particolare quella che si chiama la rivalità, ovvero la possibilità di usufruire in contemporanea di usufruire dello stesso bene. Se io ho un bene fisico, un libro, o lo leggo io o lo legge qualcun altro. Non posso, salvo metterci in due a guardare lo stesso libro, ma diciamo che è un caso molto particolare, non posso usufruire dello stesso bene in più persone contemporaneamente. Questo ovviamente non è vero per le informazioni, perché le informazioni le posso duplicare e quindi posso utilizzare la stessa informazione in maniera assolutamente non rivale. Quindi sia io che voi possiamo guardare questi slide contemporaneamente, ovviamente nessuno sottrae nulla a nessun altro. Un'altra caratteristica importante è l'escludibilità, ovvero io posso privare qualcuno di un bene fisico, oppure glielo posso concedere soltanto dietro a pagamento, mentre invece è molto più difficile privare qualcuno di un'informazione. E una volta che io vi ho dato un'informazione, non è che ve la posso togliere, ormai ce l'avete. Tenete conto che se io voglio invece andare a privare qualcuno di un'informazione che gli ho concesso, questo richiede delle operazioni molto complicate. Ad esempio, devo poter andare a nascondere o inserire le informazioni all'interno di un meccanismo che mi permetta di bloccare il loro uso. Questo richiede ovviamente dello sforzo aggiuntivo. È quello che normalmente fanno i meccanismi di DRM, Digital Write Management. Se immaginate i servizi di streaming che tutti voi probabilmente utilizzate, ecco, nei servizi di streaming io posso vedere un film, ma nel momento in cui cessa il mio abbonamento il film non lo posso più utilizzare. Perché? Perché c'è tutta un'infrastruttura tecnologica attorno che mi esclude dall'uso dell'informazione perché ho dei meccanismi di critografia, di autenticazione, dei meccanismi che mi impediscono di memorizzare le informazioni e quindi mi permettono di avere l'escludibilità. Ma l'escludibilità dell'informazione richiede una struttura, una un libero uso. Ultimo aspetto riguarda quello che si chiama i ritorni, che nel mondo materiale sono decrescenti, mentre invece in quello immateriale sono sostanzialmente ritorni crescenti. Cosa si intende per ritorni? Allora, quando io ho un prodotto oppure un'azienda che nel mercato in cui opera ha un vantaggio, quindi si porta avanti, normalmente più guadagna a quote di mercato, più aumenta il suo mercato, più questa azienda, questo prodotto avrà delle difficoltà perché, ad esempio, è più difficile avere accesso alle materie prime, oltre un certo limite non riesco, oppure ho dei limiti di mercato, quindi qualcuno non avrà la possibilità di comprare i miei prodotti o non vorrà comprare i miei prodotti, quindi tendenzialmente, in base alla teoria economica, ci sarà il raggiungimento di un prezzo di equilibrio, di un equilibrio tra prezzo e mercato, proprio dovuto a queste difficoltà. Quindi, a un certo punto ho dei ritorni che si riducono e quindi tendo a limitare l'espansione all'interno del mercato. Questo tipo di ritorni è tipico di quello che è la produzione di beni materiali, dove ovviamente ho le materie prime, ho l'attività di produzione e quindi non riesco a espandermi a occupare tutto un mercato o espandermi all'infinito, perché i ritorni decrescono e quindi devo raggiungere un bilanciamento di prezzo e mercato. Questo non è vero nel mondo immateriale, dove può succedere che nel momento in cui un prodotto, un'azienda o anche più in generale una tecnologia che compete con altre all'interno di un mercato, nel momento in cui, per puro caso, oppure per una strategia molto oculata, riesce a guadagnare quote di mercato, ecco che questo guadagnare nuove quote di mercato automaticamente gli permette in maniera più facile, quindi con ritorni crescenti, di conquistarle di nuove e quindi sostanzialmente va a bloccare tutto il mercato e lo conquista o comunque guadagna gran parte. Questo è un meccanismo che è tipico delle industrie high tech. Se ci pensate, le marche di telefonini non sono tantissime, le aziende che producono sistemi operativi non sono tanti, i tipi di browser che abbiamo a disposizione non sono tanti, perché sottano un meccanismo di ritorni crescenti, per cui nel momento in cui iniziano ad acquisire quote di mercato, automaticamente riescono a espandersi sempre più velocemente. Quali sono i fattori che ci portano a quelli che sono i ritorni crescenti? Beh, sostanzialmente il fatto che ho dei costi iniziali, normalmente di ricerca e sviluppo, che sono relativamente grandi rispetto alla produzione delle singole unità. Quindi io all'inizio ho dei costi significativi, ma man mano che vado avanti e quindi devo produrre nuove unità, i costi sono molto ridotti o quasi trascurabili. Se devo offrire un servizio, una volta che ho la mia infrastruttura informatica, dare il mio servizio a cento o a mille persone tendenzialmente non mi costa di più e quindi man mano che ho nuove quote di mercato, automaticamente è molto facile, quasi gratuito, espanderle. Questo perché? Perché entra in gioco un altro fattore che è quello che si chiama effetto rete, ovvero quando io ho un prodotto o voglio acquisire un prodotto, cerco di acquisire un prodotto che mi permetta di interagire, di essere compatibile con altri utenti che io conosco. Se voi dovete scegliere un social media o un programma, un'app di messaggistica, quale scegliete? Quella che hanno i vostri amici. Quindi più un'app è diffusa, più è probabile che si diffonda ancora di più per problemi, per motivi di compatibilità, quello che si chiama l'effetto rete. Infine c'è un aspetto di familiarità e di confidenza con una particolare tecnologia, prodotto. Nel momento in cui qualcuno ha investito del tempo per imparare a utilizzare ed eventualmente per fare addestramento delle persone, se stiamo parlando di un'azienda, di un certo prodotto, di una certa tecnologia, ragionevolmente preferisce non spostarsi su un'altra tecnologia e ripartire da capo, ma magari andare a imparare quei piccoli incrementi che ci sono da una versione all'altra senza spostarsi. E quindi di nuovo il prodotto, una volta che ha conquistato un certo mercato, difficilmente lo vedrà erodere, a meno che ci sia un prodotto che è decisamente molto diverso e molto migliore. Quindi abbiamo una serie di caratteristiche che distinguono il mondo materiale da quello immateriale. I sistemi informativi, che normalmente sono sistemi basati sulla tecnologia informatica, hanno tutte queste caratteristiche. Per cui dobbiamo tenerne conto quando andiamo a pensare di utilizzare o di progettare un sistema informativo in modo da ricordarci che le analogie con quello che è il mondo materiale sono molto molto diverse. Che cosa fa un sistema informativo? Beh, sostanzialmente un sistema informativo fa quello che si chiama gestione delle informazioni e lo fa per andare a fornire due tipi di supporto. Uno è quella che si chiama l'automazione delle attività. Quindi sostanzialmente ci si focalizza sulla produttività delle azioni che vengono svolte dalle persone e sostituisce parte o tutto il lavoro umano con tecnologia. Quindi aumenta la produttività andando a mettere tecnologia dove prima c'era del lavoro umano. Un altro aspetto che viene aiutato dai sistemi informativi è quello che si chiama il prendere decisioni, ovvero il supporto alle decisioni, dove un sistema informativo è in grado di fornire informazioni in grande quantità e questo permette di prendere quelle che si chiamano decisioni informate, ovvero basate su informazioni, permettendo una valutazione ad esempio molto veloce e puntuale di quelle che sono diverse alternative e quindi ho la possibilità di prendere decisioni in tempi molto più rapidi e con qualità decisamente più alta. Quindi abbiamo detto che i sistemi informativi sono normalmente sistemi informatici, ma è bene tenere distinti questi due termini. Quindi un sistema informativo rispetto a un computer system o un sistema informatico ha alcune differenze. Quando parlo di un sistema informativo faccio riferimento a quello che è l'hardware, il software, ma anche a una serie di conoscenze tecniche e di conoscenze organizzative dell'organizzazione in cui il sistema informativo deve andare a lavorare, che tipicamente non fanno parte di un sistema informatico, che normalmente è confinato esclusivamente a quello che è l'hard plus software. Quindi l'obiettivo nel momento in cui vado a costruire un sistema informativo è cercare di andare a catturare e formalizzare nel modo migliore possibile queste conoscenze di cosa viene fatto e di come viene strutturato all'interno dell'organizzazione. Abbiamo parlato di organizzazione, per organizzazione si intende un insieme di diversi aspetti, di persone, di strutture, di funzioni aziendali e di processi. Le persone possono essere persone di diverso tipo, hanno diversi ruoli, hanno diverse conoscenze, hanno diverse capacità. Ovviamente l'organizzazione avrà una certa struttura, in termini di organigramma semplicemente, ma anche in termini di distribuzione geografica, di gruppi specializzati in certe attività, oppure di team che seguono certi prodotti. E poi ho quelle che sono le funzioni aziendali, quindi certi compiti svolti all'interno dell'azienda. Quindi, normalmente avrò le persone che si occupano di finanza, di contabilità. Questi tipi di attività, di compiti che vengono svolte all'interno di un'organizzazione sono abbastanza standard in diverse organizzazioni. E infine ho i processi, ovvero come vengono svolte le attività, quindi qual è la sequenza di attività e il modo di fare le cose all'interno di un'organizzazione. Quando parliamo di funzioni aziendali, di solito facciamo riferimento a una serie di compiti abbastanza comuni che vengono svolti in tante organizzazioni, anche di tipo diverso. Per cui, ad esempio, si parla di manufattori, di produzione, di vendite, di marketing, di finanza, di contabilità, di risorse umane. Come facilmente capite, queste diverse funzioni aziendali le trovate in aziende di praticamente qualunque tipo. Ovviamente sono caratteristiche, funzioni abbastanza verticali, molto specifiche. Io, nel momento in cui devo andare a fare un'operazione complessa, ad esempio soddisfare l'ordine di un cliente, è ovvio che coinvolgo diverse funzioni aziendali. Le coinvolgo perché, in pratica, devo andare a eseguire quello che è un processo che richiede attività da parte di diverse funzioni aziendali, arrivare i ruoli diversi. Quindi, un processo aziendale è il modo in cui un'organizzazione coordina e organizza il lavoro che deve essere svolto per raggiungere un certo obiettivo, produrre informazione, produrre un prodotto o fornire un servizio. Una piccola puntualizzazione, quando io parlo di organizzazione intendo tutta quella struttura di controllo che include persone, strutturazione, processi. A volte utilizzerò il termine azienda, o enterprise in inglese, che è un particolare tipo di organizzazione che normalmente ha come compito il produrre beni o servizi per un profitto. Prima di concludere, vorrei fare qualche considerazione su alcuni modi di dire che sono legati agli sistemi informativi che probabilmente sentirete e che tendenzialmente sono più dei miti che delle realtà. Allora, una è quella che si chiama la sindrome dell'ultima versione, ovvero molto spesso noi come singoli, ma anche le organizzazioni, hanno magari la tendenza a utilizzare l'ultima versione di un qualche prodotto, di qualche software. Normalmente questa è un'operazione che, quando viene gestita da persone che hanno delle conoscenze, non avviene. Come sicuramente ricadrà nella vostra esperienza, andare ad aggiornare un'app o il sistema operativo all'ultima versione molto spesso ci pone a rischio, e quindi ci pone nella condizione di andare a imbatterci in quello che è un difetto, un bug del software, e quindi non ci permette di utilizzare l'applicazione correttamente. Per questo motivo, normalmente, nelle organizzazioni non c'è una corsa all'ultima versione, ma c'è una corsa a una versione che sia stabile e testata. Un altro aspetto è quello che si chiama la sindrome dei tempi moderni, facendo riferimento al famoso film di Charlie Chaplin, dove c'è una rappresentazione, ovviamente anche comica, di quello che è l'automatizzazione portata ai limiti estremi. Ecco, le stesse idee, i stessi concetti si possono applicare ai sistemi informativi e alla tecnologia informatica più in generale. Andare ad automatizzare qualcosa a tutti i costi non è necessariamente la scelta migliore. Io normalmente dovrei andare ad automatizzare ciò che effettivamente può beneficiare dall'utilizzo di tecnologie informatiche, di sistemi informativi per migliorare la produttività, migliorare la qualità di quello che sto facendo. Quindi, prima di automatizzare, devo ragionare su come farlo e su se effettivamente è un vantaggio farlo. La sindrome di internet o la sindrome dell'app è quello di avere un'azienda, un'organizzazione che vuole avere a tutti i costi un sito web o una app. Ecco, di nuovo, non sempre è necessario avere un sito web o avere una app, se io non ho chiaramente idea di che cosa voglio automatizzare e di quali attività o processi voglio andare a supportare. Un aspetto particolare è quello che riguarda gli aspetti economici, ovvero quando ho un sistema informativo, un'azienda può dire che non è interessata, o comunque immaginare che i sistemi informativi in generale non siano particolarmente utili. Ecco, in effetti è difficile capire quali sono esattamente i benefici, mentre l'utilizzo di sistemi di tecnologie informatiche ha un costo, e quello è evidente, per cui avrò dei costi di hardware, di software, di addestramento del personale, di gestione, di aggiornamento del sistema, è abbastanza complicato andare a determinare effettivamente qual è la natura dei benefici che derivano dagli investimenti in sistemi informativi. Perché? Perché questi benefici tendenzialmente mi portano a automazione di attività e normalmente riduzione di costi o miglioramento della qualità. Ecco, questi aspetti sono più difficili da quantificare perché dovrei poter andare a verificare un prima e un dopo, ma normalmente il dopo fatto con un sistema informativo non viene fatto esattamente allo stesso modo del prima, quindi è un confronto che non è sempre facile da svolgere. Per questo motivo, normalmente non è immediato andare a quantificare i benefici, mentre invece i costi sono evidenti per tutti. Per cui c'è la tendenza non sempre a considerare importante un investimento in sistemi informativi. Ultimo aspetto è quello che riguarda l'efficacia e la facilità d'uso. Per cui molto spesso c'è un approccio che volendo è opposto a quello che abbiamo appena menzionato, ovvero quello di dire che io, va bene, voglio un sistema informativo e gli utenti, ovvero le persone che lavorano nella mia organizzazione, si devono adattare e non devono opporsi a quello che è il cambiamento. Ecco, questo è un atteggiamento opposto, un po' legato alla sindrome dei tempi moderni, in cui considero l'automazione soprattutto e invece non considero il fatto che alla fine un sistema informativo deve essere pensato per andare a dare un supporto alle persone nel loro lavoro. E quindi non posso sconvolgere il modo di lavorare delle persone, ma devo cercare di tenere il più possibile il modo di lavorare attuale o fare o introdurre un modo di lavoro che sia consono alle persone che gli permette di fare le attività in maniera efficace, facile, senza sforzi particolari. Ecco, questo è un aspetto molto difficile a cui bisogna prestare molta attenzione nel momento in cui vengono adottati dei sistemi informativi. Con questo chiudiamo questa nostra prima lezione che riguarda i sistemi informativi aziendali. Che cosa sono? Quali sono gli elementi fondamentali? E soprattutto il fatto che ci permettono di andare a lavorare in una dimensione che abbiamo detto essere materiale, che è abbastanza diversa da una dimensione materiale per tante caratteristiche che abbiamo elencato. Grazie.